Spero non riguardi il tuo regalo, presto dobbiamo arrivare in fondo al percorso dell'apparato. Attivo i magnescarponi! E' finita la parte dei saluti e dei sorrisi, eh? Scommetto che è opera dei draghi, o dei kragmiti, o del... Oh, non poteva riuscire. Incossibile! E Marius è fuorigioco ormai da chissà quanto! E ora i nostri eroi attraverso... Oh, 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 oh! Benvenuti su! Ardalix! Occhio a quegli smalti da reggine per noi! Bravo, Bastini! È il naso! Proprio come i vecchi tempi, non è vero? Oh, 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 oh! I nostri eroi hanno distrutto il nemico! Ora mi aspetta... Oh, 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 oh! I sferiti in grande e un ruolo. Altro combattimento. Qui avrei dovuto recitarne un ruolo molto molto trasferito. Almate, fratti, sarve dove... Ma altres guerrini arrivo. Eccolo! Presto il flusso della taglia sarà nostro. Wow, occhio alla testa! Questo è il peggio del previsto. Squali della sabbia! Non l'ho mai evitato. Arrenditi, che sei... Quello era... Un kraken? O un polpo troppo cresciuto? Ecco Nefarius. Dobbiamo raggiungere la sua nave. I taxi che decollano da lì gli sfrecciano accanto. Beh, allora chiediamo un passaggio. Ehi, eh... Com'è che hai ricostruito il dimensionatore? Nel tempo libero. Mi so che trovare il non-bugs è sempre stato il tuo più grande sogno. Quindi ho pensato che forse potremmo farlo insieme. Wow! Sono davvero commosso. Beh, intanto togliamolo a Nefarius, ok? L'on-bugs alla fermata dei taxi. Che cos... L'on-bugs è festa! Il becca anche da casa! Ecco un passaggio. Prossima fermata, Nefarius. Le fenditure sono fuori controllo. Nefarius questa volta sta davvero esagerando. Ma lo cos'è? Oh! Ehi! Presto! Aspettiamoci! C'è di nuovo? Già! E purtroppo non se la sta cavando affatto male! Noi due! Che sgherri inutili! Ecco cosa succede! A mandare il mio assistente in congetto di padronità! Dobbiamo impedire che Nefarius abusi dei dimensionatori. Indeboliamo le difese. Ti ha fatto male? Bene! Prendi questo, Nefarius! I erosti sono così sgradevoli. male di te. Oh no! Siamo sotto tiri. Sì? Scusate da me! Pensavate sarebbe bastata! Una cocente sconfitta a fermarmi! Beh... Sì? Vi sbagliavate! Ci sposteremo in una dimensione in cui vinco sempre io! Così finalmente saprete come ci si sente! Le dimensioni si stanno destabilizzando! Sì? Oh no! Questo è male? Beh, di certo non è un bene. Ottimo! Ma... Dove si ha? Vorrei sapere... Rake! Ma quante braccia hai? Braccia di diavoleria! Giù dalla mia labbra, bastia! Ce l'ho fatta, oppure no? Siamo... Cosa sono quei Neon? Siamo alla parte... in cui tu perdi! Ratchet, il dimensionatore! Ratchet... Il braccio... No... Il dimensionatore... Che cosa ha combinato? Già, cos'hai combinato? Già, cos'hai combinato? Oh... No... Il dimensionatore... Tu chi sei? Qualcuno che ha molte domande... Adesso vieni con me! No... Devo trovare il mio amico! Mi trovo? Sono io? È funzionato! È fatta! Sì! Ho vinto! Imperatore Nefarius! Aos, siete tornato in anticipo dalla missione! Sì! Imperatore! Cuz è una nuzaforma! Ora che fai... Allahoo! Ora che fai Renee... 주세요! Clank? Clank? Clank! Un Lompax! Ma dove sono capitato? Dove sei Clank? Magari qualcuno qui intorno l'ha visto? Qualcuno ha visto in giro un robottino grigio? Occhi Verdi? Antenna Rossa? Puzza di Ferro? Speriamo di trovare qualcosa di utile? Benvenuti al Bazar di Nefarious City. Vi ricordiamo di rendere grazie al nostro magnanimo Imperatore che va durante e dopo i vostri acquisti. Imperatore? Vuol dire che... adesso ci sono due Nefarious? Prima Clank, poi Nefarious. Forse lo troverò al Bazar. Ehi, Lompax! Aspetta un momento. Ha dimenticato il suo ordine. Prego, si accomodi. Se vuoi che Miss Zurkon continui a venderti armi. Cerca di non attirare così tanto l'attenzione. Altrimenti la resistenza sarà la fine. La resistenza? Eh? Oh! Scusa il zuccherino. Miss Zurkon è ancora poco pratica di... Spionaggio! Io... Ah! Libera lo stagno! Clank! Ah! No! Devo inseguire quell'astronave. Come esco dal pianeta? È un test, vero? Solo le astronavi reali possono decollare. Le altre... Oh! Ma puoi chiedere aiuto a Phantom? Segui la musica fino alla disco Nefarious e lo troverai lì. Disco Nefarious, ok. Oh, e bel lavoro, Agente Segreto Zurkon. Oh! Oh 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 oh! È così funzionante! Che musica faranno alla disco Nefarious? Questa all'area di una discoteca Dottor Nefarius? Che cosa è successo al vero Imperato Fale? Non so sai, la tessera del locale Andiamo Phantom, dove sei?